Si azzera davvero tutto ai play-off? Diciamo che c'è questo modo di dire che inizia un altro campionato. Inizia un altro campionato. Quello che resta sono le rose delle due squadre, sono le stesse. Quindi non è che cambieranno molto, con pregi e difetti ovviamente. Quindi la Carrarese è una squadra che ha fatto molta fatica fuori casa. Ha davanti un attacco che ha segnato molto poco, non ha trovato un bomber da doppia cifra. E dall'altra parte però c'è un Pescara che in casa ha stentato con parecchie squadre anche di medio-bassa classifica. Vedi anche l'ultima partita di domenica. Dipenderà molto dal fatto se la Carrarese riuscirà a fare la partita in fase offensiva. Se viene a Pescara gli attacchi li puoi mettere in difficoltà. Se ti chiudi dietro hanno una forza davanti che possono vincere la partita. La partita nel giorno di ritorno tra Pescara e Carrarese è stata molto in modo equilibrata. Forse è la migliore partita della Carrarese fuori casa. Anzi, secondo me avrebbe meritato la vittoria per qualità di gioco e organizzazione. Era il 2 febbraio, 1-1 il verdetto finale. Tra l'altro l'unico gol realizzato da Petrelli che poi si è eclissato. Petrelli che è arrivato nel mercato di gennaio. La squadra è praticamente rimasta quella di quest'estate. Quindi il povero di Natale ha dovuto fare il girone di ritorno soffrendo molto, non avendo i cambi e non trovando mai soluzioni davanti con gli attacchi hanno. Tu hai fatto un grandissimo lavoro. Non è piageria alla Carrarese come in tante altre piazze. Del resto la Carrarese ha voltato pagina la scorsa estate. Perché c'è stato un ridimensionamento dei costi, un ringiovanimento dei ranghi. E quindi tu sei stato molto bravo. Del resto la squadra giocava anche un buon calcio. C'è stata la separazione da questo club. Ecco, per un feeling probabilmente mai nato con la proprietà? Penso di sì. Diciamo che la pensavamo in maniera diversa. E poi il presidente ha preferito puntare su Giannetti, puntare su questi giocatori qui, che io avrei fatto delle operazioni diverse. Tra l'altro con giocatori che hanno fatto molto, ma molto bene. Quindi l'avevamo anche scelto bene. Ma con Di Natale abbiamo fatto un ottimo lavoro. Perché soprattutto i giovani sono stati veramente la risorsa importante di questa squadra. Hai fatto fare una grande plusvalenza alla gara rese. Ne parlavi poc'anzi. Questo ragazzo, Sergio Calai, che è preso dalla Lazio, praticamente a parametro zero. Un classe 2000 è andato al Frosinone a gennaio. Sì, è andato al Frosinone a gennaio. E' stato anche pagato bene. Però anche lì andava. Questo era un giocatore che andava sostituito sempre con un under. Però dovevi prendere un under forte, un under che potesse essere un titolare, che potesse dare il cambio agli altri senza far perdere cifra tecnica alla squadra. Cosa che invece purtroppo non si è verificata. Ripeto, si poteva fare meglio. E ripeto, mi dispiace per Di Natale che è un buon tecnico, un personaggio di grande personalità e fra l'altro anche di grande simpatia. Per cui, secondo me, meritava un po' più di supporto, sinceramente. Numeri a dir poco contraddittori, no? Perché in casa ha fatto molto bene la Carrarese. 34 punti, uno in meno del Pescara che si è classificato al quinto posto. Malissimo in trasferta. Trend disastroso. Appena 11 punti con 10 sconfitte, una sola vittoria e 8 pareggi. Ti sei dato una spiegazione? E' difficile, è difficile. E' strano, un po' casuale. Un po' probabilmente il fatto che fuori casa, in casa costruiscono tanto e sono riusciti a trovare molti gol con il mediano, con Battistelle che li ha fatti quasi tutti in casa. Li ha fatti sette, mi sembra ne abbia fatti tutti in casa. Fuori casa evidentemente si doveva giocare un pochino più compatti e trovare qualche gol con gli attaccanti. Anche a livello individuale qualcuno si doveva inventare qualcosa. Invece è una squadra che a livello individuale con gli attaccanti ha fatto pochi gol. Parlando del Pescara, Vincenzo, le aspettative sono andate deluse, sono state disattese, però in questo momento bisogna resettare e ripartire, no? Beh, indubbiamente. Adesso Pescara comunque ha sempre delle grandi potenzialità. è chiaro che è una squadra che evidentemente ha subito tanti gol e continua a essere un po' distratta in fase difensiva, per cui questa è una pecca grave di poter ripare i due gol in casa con Limonesi. Una partita che ti può portare veramente enormi vantaggi, perché sembra, sembra, magari da fuori uno dice quarto, quinto, terzo, quarto, quinto, cambia poco, ma non è così. Se tu in una partita così sei così blando, sei così distratto, evidentemente ce l'hai un pochino nel DNA. Correre il ripari adesso non è facile. Troppo poco tempo, a mio avviso, non so se siete d'accordo, per giudicare il lavoro di Zauri. L'errore di Auteri è stato, secondo te, quello di snaturarsi da un certo momento in poi. Sono arrivati dei giocatori funzionali al suo 3-4-3. Mi riferisco a Gennaio, i due centrocampisti. Evidentemente anche lui non era molto soddisfatto di quello che stavano facendo. Dursi ha fatto poco fino a quando è rimasto Auteri. I due esterni, i due quinti, chiamiamoli i due quarti di centrocampo, secondo me avrebbero dovuto produrre molto di più. E alla fine il problema più grosso è stato anche quello a livello individuale, qualche pausa di troppo in fase difensiva, qualche dormita di troppo. Io credo che l'allenatore Auteri abbia tirato fuori un po' il massimo da questa squadra. Adesso il lavoro di Zauri sarà quello di ripulirlo un po' mentalmente per cercare di affrontare questi play-off con un piglio, una determinazione diversa. Si riusciranno a trovare dentro di loro queste caratteristiche che per tutto il campionato non ho visto. Che partita dobbiamo aspettarci, Vincenzo? Perché è chiaro che il Pescara è un vantaggio, no? Può giocare per due risultati su tre, ma non si può cullare su questo aspetto. Ha un vantaggio, ma potrebbe anche essere un limite. Se uno pensa col pareggio passo, poi alla fine rischia di non giocare la partita. Invece, secondo me, il Pescara la deve giocare, perché la forza del Pescara è probabilmente la fase offensiva. Deve cercare di fare gol. Non si deve sedere sul fatto che... Poi alla fine il vantaggio che con due risultati passi è un vantaggio enorme, più di quello del fatto di giocare in casa. La cara rese dalla sua, c'è il fatto che è arrivato a decima, è entrata nel play-off, la classifica avulsa, magari anche non meritando di entrarci, perché le ultime due partite hanno preso nove gol, non hanno nulla da perdere. Hanno comunque un'intelatura buona, perché 34 punti fatti in casa significa che comunque tu la squadra ce l'hai. una partita secca, non hanno niente da perdere. Se fossero loro, verrei qui con grande coraggio a giocarmi la partita, soprattutto anche con una buona correlazione offensiva, perché intanto il vantaggio della cassa è quello che può essere la partita della Cararesa, è quello che può essere la partita della Cararesa. Sì, guarda, ti dico la verità, a quest'estate sono stato molto vicino a Siena, anzi, devo dire la verità, avevamo già praticamente anche un accordo, anche se verbale. Devo dire la verità, loro hanno fatto prima un mercato abbastanza schizofrenico, perché sono stati ripescati, hanno fatto una squadra con un po' di nomi importanti, pagati anche a caro presto e qualche giocatore che veniva dalla Serie D, che forse non era proprio l'idea. Poi, secondo me, a gennaio, invece di migliorarla, anche loro hanno fatto un po' di danni, perché hanno fatto il tourbillon cambiando tantissimo. Diciamo che c'è stata molta confusione, no? Moltissima confusione, poi alla fine la confusione ti porta a non avere la risultata. Insomma, arrivare in quella, Teresiena, arrivare in quella posizione lì in classifica, insomma, diciamo, un campionato, visti i costi, è abbastanza fallimentare. Senti, le più belle rivelazioni, abbiamo detto dell'Ancona, e io concordo perfettamente, però aggiungo il Montevarchi, soprattutto per le ambizioni che poteva avere il Montevarchi, ovvero la salvezza, quindi ha fatto un campionato al di sopra delle sue reali possibilità. Ah, sono d'accordo con te, il Montevarchi è stato sorprendente. Poi devo dire la verità, giocavano anche un calcio brillante, e hanno messo in mostra anche dei giocatori che venivano dalla Serie D, che hanno fatto molto bene. Questo per rimarcare ancora di più il fatto che in Serie D bisogna pescare. Visto che abbiamo allargato gli orizzonti, davvero l'ultimissima, Zeman eterno. Beh, Zeman è poi una squadra, il Foggio è stato anche un po' penalizzato, perché questa situazione assurda del Catania, assurda veramente, perché veramente ci hanno messo di tutto, tutti di tutto, per fare diventare un campionato anomalo il Girone C, perché Catania andava fermato prima, quindi il Foggio è stato penalizzato, perché gli sono stati tolti tanti punti, però poi hanno reagito bene, e il Foggio è un'altra mina vagante. Se loro indovinano la partita, loro possono fare male. Personaggi come Zeman fanno sempre bene al calcio, perché se si parla di meritocrazia, visto che il discorso era questo, mi pare che sia l'emblema di quello che stavamo dicendo. Se si parla di calcio, queste sono persone che indiscutibilmente dovrebbero continuare a farlo, finché lui ne ha voglia, è un maestro da questo punto di vista.